ho fatto la pelata ho deciso di fare la pelata completa e vi faccio vedere come ho fatto mi sono munito di questo rasoio elettrico ed ho iniziato a rasare dalla parte centrale della testa ho provveduto subito ad eliminare i lati per non sembrare gargamella dal laterale sono passato ovviamente alla porzione posteriore della testa terminata la prima fase di rasatura sono andata ad applicare un telo umido caldo e ad applicarli sopra degli oli essenziali dato che avevo la cute desquamata ho applicato anche questo prodotto in gel realizzato appositamente per una skin care quotidiana del viso successivamente sono passato alla fase di rasatura quindi ho preso il di sicurezza ho montato le mie lamette in carbone e sono partito con questo gel da rasatura con molecola anti arrossamento l'ho distribuito in maniera uniforme lungo tutto l'arco della testa e poi sono andato a passare la lametta sempre pelo e contropelo stando molto molto attento alla zona di crescita del capello come ultimo step ho applicato ancora degli oli essenziali quali olio 31 e olio di rosmarino proprio per alleviare il fastidio da rasatura questo è il risultato finale fammi sapere cosa ne pensi nei commenti